la professional division diciannove e trentaquattro con il numero seicento cinquantotto Francesca Peiretti e Riccardo Irinot ed è venuto il momento di accogliere sulla pista la coppia della professional division diciotto trentaquattro dal Piemonte Francesca e Riccardo nella categoria quarantacinque cinquantaquattro con il numero settecentosette Anna Gladosca e Valerio Rivera con il numero settecentottantasei Claudia Tessitore e Raffaele Greco il nostro DJ si è lanciato con la densa anni settanta per accogliere l'ingresso di una competizione 45 54 professional division il Piemonte e la Liguria contendersi ma restiamo subito alle immagini direttamente dalla pista Riccardo e Francesca in esibizione per la diciotto trentaquattro professional division invece la competizione che vi poc'anzi introducevo vede contendersi la coppia numero settecentosette dal Piemonte Anna e Valerio e la coppia dalla Liguria Claudia e Raffaele parlavamo prima del fatto che come sia stato emozionante bello importante ritornare a vivere in tutti i suoi aspetti la domenica di competizione riassaporando e riappropriandoci del significato del valore di ogni piccolo gesto ovviamente in totale sicurezza ma il sapore che contraddistingue questa giornata è anche quello della competizione per la quale i nostri atleti si sono preparati nelle proprie nelle strutture della relazione italiana danza sportiva a porte chiuse con l'obiettivo di ritornare a danzare su questa pista quindi in quanto tale la competizione vede un vincitore una medaglia d'argento una medaglia di bronzo ed una classifica ma senza tanta retorica possiamo dire che oltre alla competizione quest'oggi uniti alla giornata che ci ha preceduto di ieri abbiamo vinto tutti hanno vinto tutti tutti gli atleti che hanno con la loro presenza permesso a questa competizione della federazione italiana danza sportiva di aver luogo e di ripartire questo bel marchio che unisce la scritta ripare con un grande ti amo che si conclude con un cuore che potete vedere inquadrato il passaggio è più che significativo nel rappresentare il cuore che mettono tutti i nostri atleti in particolar modo quelli che stiamo seguendo nella loro competizione competizione della 45 54 professional division ancora di fronte alle nostre telecamere francesca e riccardo e con il numero 707 Anna e Valerio dal Piemonte e dalla Liguria con il numero 786 Claudia e Raffaele chi volete che vinca scrivetecelo su Facebook e insieme aspetteremo le premiazioni ancora fino all'ultimo secondo con questa trascinante polca seguiamo la performance in esibizione di Francesca e di Riccardo di Claudia e Raffaele e di Anna e Valerio salutiamo e facciamo il nostro in bocca al lupo agli atleti per le prossime premiazioni